Ciao, oggi vi insegnerò come fare una pallina che rimbalza su Scratch 2. Per prima cosa entriamo nel programma e poi sovritteniamo la lingua italiana. Possiamo mettere uno sfondo a piacimento. In questo caso io lo metterò di un solo colore, ad esempio il verde acqua. Poi cancelliamo questo sprite e ne scegliamo uno dalla libreria, in questo caso una pallina. Adesso possiamo iniziare a dargli i comandi. Andiamo in situazioni e mettiamo quando si clicca su bandierina verde, movimento, vai a X0 e Y0. Poi andiamo sempre in situazioni, quando si preme il tasto spazio, movimento, ruota in senso orario, D, operatori, un numero a caso tra 1 e 15 gradi. Poi andiamo in controllo e selezioniamo attendi un secondo, poi torniamo in movimento e mettiamo ruota, questa volta in senso anti-orario, di numero a caso tra 1 e 15 gradi. Poi in controllo troviamo per sempre e in movimento rimbalza quando tocchi il bordo. Infine, selezioniamo Fai 10 passi, che cambieremo con Fai numero a caso tra 1 e 15 passi. In questo modo, quando clicchiamo sul tasto spazio, la pallina si muoverà e quando clicchiamo sulla bandierina verde si fermerà al centro del gioco. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao!